Siamo a San Giustino Valdarno e c'è la sede della Tramontana che è una banda ormai conosciuta molto famosa, il 17 cosa farete? Il 17 la banda della Tramontana come di consuetudine farà il concerto di Natale che riprendiamo quest'anno dopo due anni di inattività dovute al Covid quindi quest'anno come tradizione a San Giustino la banda sotto le feste di Natale fa questo concerto per il popolo di San Giustino e chi vorrà partecipare presso la sede dell'MCL di San Giustino seguirà poi domenica il pranzo di Natale come ormai è tradizione da decenni Siete molto attivi? Sì siamo molto attivi, le ragazze hanno preparato tutti i balli quindi vi aspettiamo numerosi a vedere il nostro concerto Siete tutti invitati Siete tutti